e benvenuti ragazzi sono mario 96 e benvenuti in questissimo video raga altro video altra corsa siamo in coppa del mondo di ciclocross siamo a zone oven raga un tracciato spettacolare bellissimo con dei passaggi molto 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 complicate veramente c'erano delle discese in sabbia e discese di sabbia ma un qualcosa veramente di spettacolare ma molto molto complicate comunque ha vinto Van Aert secondo Mattie Van Der Poel che è caduto un paio di volte e Van Aert dopo la caduta di Van Der Poel ha aperto il gas e è andato via in solitaria andando a vincere la la corsa la la gara di coppa del mondo a zone oven secondo appunto Van Der Poel terzo Swag raga una gara che a me mi piace anzi scusate mi è piaciuta tantissimo e io vi invito come ho detto anche in altri video intanto iscrivetevi al canale a lasciare un bel like a questo video e poi vi invito anche a guardarvi le gare di ciclismo principalmente e poi di guardarvi le gare di ciclocross che sono uno spettacolo veramente spettacolari va bene raga per questo video può essere tutto subito un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale senza non iscritti questo è un piccolo video commento sulla coppa del mondo sulla gara di coppa del mondo di zone oven un bel like e noi ci vediamo al prossimo video bello Grazie Grazie